salve a tutti io sono Antonio Diorenzo e sono qui per farvi ascoltare uno strumento del passato ma sempre molto di moda e sempre molto attuale uno strumento bellissimo che è la Ludwig super classic in finitura black oyster la famosissima Ludwig di Ringo Starr per l'occasione abbiamo utilizzato il rullante l'unico rullante in possesso da parte mia simile uguale per dimensioni ma non per finitura è un silver sparkle ma è uguale per dimensioni a quello dello stesso ringo appunto è un 5 e mezzo passo subito a farvi sentire lo strumento pezzo per pezzo e poi vi darò una panoramica di insieme grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti era la mitica Ludwig super classic in finitura black oyster grazie della vostra attenzione peace e love thank you Ringo bye bye grazie a tutti